il mercato non mi fa ciao a tutti sono i genitori dal mexico voglio ringraziare tutti i miei fan e tutti i miei famigliari che mi sono ascoltando oggi a radio soft ringraziati tutti quelli che mi hanno perso fino d'ora gli aggiornamenti sono che sono stato a cuba, alibama, ai statuniti ancora conosciuto il mio metico jamie kennedy io adesso vivendo in mexico e spero di farvi divertire oggi a dot dalle 20 alle 23 grazie a tutti bye bye